Allora, come sta andando? Vedo gente sulle scale, quindi devo essere una... No, sta andando molto bene. Io sono arrivata questa mattina alle nove e mezza e c'erano già una centinaia di persone in attesa e sono molto bravi, sono assistito a molti provini. La cosa meravigliosa è che la gente è presa dalla città, quindi dalla strada è uno spontaneo e è un bravo a recitare per stesso. La cosa che ci tengo è che tutti stanno facendo i provini, anche quelli che solitamente quando si fa la comparsa al cinema non si fa un provino. Noi proprio perché è un progetto culturale di avvicinare il cinema, la gente al cinema, facciamo fare a tutti il vero provino adattore, quindi entrano, si presentano avanti alla telecamera, confinano prima una scheda con il casting director, poi dopodiché recitano un monologo di un minuto e mezzo, una poesia perché ovviamente il monologo non ce l'ha e poi vengono fatti improvvisare su dei ruoli del copione, quindi gli viene dato lo strancio e quindi veri attori professionisti.